Sì, praticamente sì, perché fin da piccolo, intanto mi accompagnava da Silvia e mi mettevano sempre le, insomma, mi facciamo sempre ascoltare in auto le canzoni più grandi cantanti della canzone napoletone, come esempio Bruni, Mio Fiore, Mario Verona, Mario 3, e io piano piano ascoltavo tutti questi brani, tutte queste canzoni classiche napoletone che nel frattempo che, diciamo, sentivo in quel periodo anche le presentazioni dello Settino d'Oro e si affiancavano questi, io vedevo quella, diciamo, differenza e mi ha tremendo Gli parte da lì, lo si chiama! Gli parte da lì, lo si chiama! Nel frattempo mio padre spesso inviudevamoci a casa e si vieno a tutta classe Perché mi l'avevo tutta bene, grazie! Io, quando sentivo cantare, non inviudevo le mie camina perché non volevo completamente sentire cantare, nonostante la bella voce di adesso Un giorno dopo ho avuto questa canzone di Settino, quindi, circa l'età di 10 anni, mentre fecevo i compiti, mio padre era lavorato Quando eri già bella? Io non cazzo! Stavo 3 anni fa, circa 3 anni fa! E quindi mio padre sente cantare, dice, ma chi è che sta a cantare? Mio madre dice 3 anni, dice, ma è possibile! Ho cantato, un classico da nozioni ho fatto un pezzetto, l'arte lo sole, mio padre mi faceva così dire in macchina Com'è questo? L'arte lo sole, l'arte del sole, cioè che ci sono Un pazzettino? Si! Sì! Sato il suono appena a te, scaglia al suono appena a te Tanta mia mamanin, la monumenta ma biore로 marini Questa è una parte più femmello Il padre è stupido, dice, ma chi è che è calmo? Che credo è un'esame, però. E' un'esame. Io mi lascio cantare, quindi poi pomamo faccio i festi al canone e queste cose qui. Poi ho anche inciso alcuni album. Avete siciliano qualcosa? Sì, ho anche cantato qualche canzone siciliana. Attivamente ho inciso una canzone che parla appunto degli emigranti, che porta appunto il titolo di Emigranti. Posso fare una situazione che facevo Emigroni, emigranti, ogni palazzi dopo l'ucerù, ogni si parla e lunga, visce di emigranti. E' un'esame. E' un'esame. ho detto qui, poi ci sono due citi di canzone classiche napoletane e una canzone mia. E' altrimenti ho fatto quello di canzone mie che... Hai capito? Ha fatto un'esame. Sì, ma non è un'esame. Sì, ma non è un'esame. E' un'esame. Senti, stasera ci vai a ascoltare la canzone della Gliusa. Sì, eh. E poi tutti ballerete, insomma, canterete perché? La Gittempo, la Gittempo. La Gittempo, la Gittempo, la Gittempo. La Gittempo, la Gittempo, la Gittempo. La Gittempo, la Gittempo. La Gittempo, la Gittempo. La Gittempo, la Gittempo. La Gittempo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti